Conad e Trento con il popolo dei Block Devils che crede nella possibile rimonta bisognerà vincere gara 4 e poi cercare di espugnare Trento dove nessuno quest'anno è riuscito a piazzare il colpo vincente. Tra l'altro da ieri è ufficiale che la Sir giocherà la seconda semifinale di Champions per quanto riguarda la Final Four di Champions alle 19.30 del 29 aprile contro la vincente di Civitanova Modena. La prima semifinale tra Berlino e Kazan che ha battuto Belgorod per 3 a 0 sarà giocata alle ore 16.30 dunque si delinea anche il quadro della Final Four di Champions League di Volli in cui sarà protagonista la Sir con la seconda semifinale delle 19.30 un'altra grande sfida contro un'altra grande italiana. Bene tutto con l'informazione sportiva regionale io mi fermo qui grazie per averci seguito arrivederci Grazie a tutti.